Siamo qui con Jacopo al Manituana. Jacopo, quali sono le attività sociali che voi fate? Come vi inserite nel tessuto sociale della città? Nel corso degli anni le attività sono decisamente cambiate anche in relazione al contesto. Diciamo che prima della pandemia avevamo magari un approccio diverso, più improntato alla socialità per le persone più giovani del quartiere. Poi ovviamente la pandemia ha imposto una serie di ripensamenti e quindi abbiamo cominciato a fare distribuzioni di pacchi alimentari in un primo momento non da soli ma in compagnia di altre realtà. Poi abbiamo proseguito per un po' da soli. Abbiamo la biblioteca che funziona in questo momento, abbiamo il doposcuola che è appena visto, il doposcuola del comitato di zona Aurora che è rimasto senza uno spazio e che noi ospitiamo e supportiamo. Ci sono varie realtà, vari collettivi che si trovano all'interno di Manituana, abbiamo gli orti, da poco ha ricominciato a funzionare qui anche lo sportello illegale per dare supporto alle persone che hanno bisogno di aiuto con documenti e tutte le questioni legate appunto alla cittadinanza o alla cittadinanza mancata. Abbiamo una cucina funzionante, naturalmente funziona un po' a singhiozzo ma sempre si riesce a garantire attraverso Food Not Bombs di sfamare ogni fine settimana decine di persone senza tetto. Questo Food Not Bombs lo faceva naturalmente anche prima di venire a utilizzare gli spazi di Manituana, continua a farlo adesso con solerzia e con estrema capacità nonostante il problema dell'acqua mancante. Beh, poi chiedimi pure altre cose perché il numero di attività all'interno dello spazio è veramente cospicuo ed è difficile fare anche solamente locale. Ad esempio il doposcuola, i bambini che si devono lavare le mani, che comunque si sporcano, c'è bisogno di acqua. Abbiamo visto come i bambini si lavano le mani con una tanica. Adesso abbiamo un tot di boccioni, borracce eccetera per cui riusciamo a raccogliere intorno ai 300 litri d'acqua dalle fontanelle vicino. È un'attività che va fatta ogni giorno e tendenzialmente ogni giorno quell'acqua finisce poi sempre a seconda delle attività che ci sono. Ovviamente se è giorno in cui si cucina o in cui magari c'è sia le attività di vari collettivi che del doposcuola, naturalmente i litri d'acqua vanno tantissimo, quindi dipende un po' da quello, ma la pratica che abbiamo trovato per adesso è quella di rifornirciare fontanelle che come ben sai a Torino non mancano. Quindi si prende la cargo, si fanno quei 25 minuti, mezz'ora di approvvigionamento acqua, si torna e il giro riparte. Grazie. Grazie a te.